Ciao a tutti, Domenico Petrolino. Nell'episodio di oggi di Non puoi non saperlo parleremo di Albert Cam, uno dei più grandi scrittori del Novecento, sicuramente uno dei più grandi scrittori francesi, esponente illustre dell'esistenzialismo ateo, anche se lui non volle mai essere chiamato un esistenzialista. Partecipò all'esistenza francese, quindi anche un intellettuale impegnato, premio Nobel per la letteratura, nonostante sia morto molto giovane, quindi sicuramente un personaggio interessantissimo, sapevo poco o niente di questo scrittore, quindi ho deciso di informarmi e, come al solito, condividere con voi quanto scoperto. Bene, andiamo avanti, nasce a Mondovio Mondovì, non la cittadina piemontese, ma una cittadina nell'estremo nord-est dell'Algeria nel 1913 e muore nel 60, a soli 47 anni, a Villebleven in Francia. Di famiglia molto povera, il padre morì un anno dopo, la sua nascita nel 1914, nella prima battaglia della Marna. E lui con la madre e la nonna, nonna figura importantissima nella sua educazione, si trasferisce ad Algeria. È uno studente molto dotato e viene incoraggiato a continuare gli studi dal suo professore di filosofia, che in seguito diventerà suo grande amico, Jean Grenier. Lo fa, quindi continua gli studi dopo il liceo e vince una volta di studio per entrare nella Facoltà di Filosofia dell'Università di Algeria. Ahimè, per le sue condizioni di salute, quindi si ammala di tubercolosi a soli 17 anni, malattia che allora era considerata incurabile, quindi per le sue condizioni di salute appunto dovette rinunciare a frequentare i corsi e, oltre a questo, rinunciare al teatro comunque fu molto difficile per lui seguire la sua passione per il teatro e anche la sua altra grande passione, il calcio. Si laura comunque da privatista nel 1936, a soli 23 anni, con una tesi su Plotino e Sant'Agostino. A testimonianza della sua grande passione per il calcio, alcune sue citazioni, quindi questo è importante, tutto quello che so sulla moralità e sui doveri degli uomini lo devo al calcio. Ecco, come cambiano i tempi, direi, vi piacerebbe, come dire, capire cosa ne pensa del calcio moderno, scandali, soldi, eccetera, eccetera. Comunque, lasciamo perdere. Bene, nel 1933 aderisce al movimento antifascista Amsterdam-Pleyer e un anno dopo si iscrive anche al Partito Comunista Francese, anche se mantiene sempre un atteggiamento molto critico, sia verso il partito sia verso le teorie marxiste. Fu infatti spesso oggetto, per questa sua posizione critica, fu spesso oggetto di attacchi da parte dei colleghi di partito e anche colleghi scrittori, e finì col distaccarsi dal partito nel 1937. Allora, dopo la laurea, lavora come redattore in quotidiani locali, sempre ad Algeri, un'attività che lo porta spesso in contrasto con il governatore generale delle colonie del Nord Africa per il suo, appunto, atteggiamento critico verso il governo e per i suoi articoli critici. Proprio a causa di uno di questi articoli viene licenziato, come dire, suppressione del governo e il governo stesso che si adopererà per far sì che lui non trovi più un posto come giornalista in Algeria. Questa situazione la stringe quindi all'emigrazione, si sposta a Parigi nel 1940, quindi a 27 anni, e diventa segretario di relazioni del giornale Parisois grazie all'aiuto del fondatore del giornale Pascal Pia, uno scrittore e giornalista francese che gli rimarrà sempre amico e al quale Camus dedicherà il libro Il mito di Silpho. Siamo nel 1940, quindi siamo negli anni dell'occupazione nazista e Camus vi si opporrà in ogni modo lui possibile, quindi prima osservatore e poi come attivista, considerando questa occupazione inaccettabile e ingiusta. Osservatore attivista quindi si affilia alla cellula partigiana Combat e questi avevano anche un giornale che circolava clandestinamente e lui appunto, oltre a partecipare alla cellula come attivista, curerà anche molti articoli. Giornale nel quale coinvolse appunto anche Sartre. Sartre, appunto un'altra figura importantissima dell'esistenzialismo del Novecento, del panorama culturale, della scrittura, eccetera, eccetera. Quindi aspettatevi presto un episodio su Sartre. Comunque, esce in questo periodo, quindi nel 1942, il suo primo romanzo, Lo straniero. Lo straniero che narra la storia di un delitto assurdo che rispecchia in modo più vasto, più in generale, l'assurdità dello stesso vivere e l'indifferenza del mondo. Questi sono appunto temi tipici dell'esistenzialismo anche se, come abbiamo già detto, Camus non vorrà mai essere etichettato come esistenzialista, esistenzialista ateo, comunista, eccetera, eccetera, ma vorrà sempre mantenere la sua indipendenza di pensiero. Bene, personaggio assolutamente interessante, sono già sei minuti e mezzo per il primo episodio, secondo me va bene così. Grazie a tutti per la vostra attenzione e alla prossima.